allora oggi per la puntata di whatsapp siamo in versione open dal vivo sul balcone abbiamo come ospite giampaolo morelli ciao giampaolo come va come combatti questo momento particolarmente difficile a casa ciao andrea eccomi anche io sul balcone come vivo questo momento diciamo che la mia vita in quarantena non è poi molto diversa dalla vita che faccio quando non lavoro perché sono affetto da una notevole pigrizia di solito e poi mi piace stare a casa con i bambini insomma anche perché il mio lavoro poi mi porta spesso lontano e in più in questo momento studio faccio la prima elementare con mio figlio gianmarco il più grande che fa la prima elementare di tutti i giorni io mi collego per le lezioni online stiamo facendo l'italiano la scansione in sillabe matematica sto facendo le le addizioni stiamo per affrontare le le sottrazioni questo mi do da fare spero di essere promosso a fine anno in realtà poi noi abbiamo chiamato per parlare di 7 euro per farti innamorare finchè dal 20 aprile disponibile su tutte le piattaforme su cili e che ti vede per la prima volta alla regia comandata è stato difficile c'era ansia sul set si dal 20 aprile disponibile sulle piattaforme on demand quindi su su cili su infiniti rakuten tv team vision sky prima fila sono piattaforme molti mi chiedono ma se piattaforme sono a pagamento l'ingresso no poi paghi il film e quindi è un po diciamo come pagare un biglietto che poi ne usufruisce tutta la famiglia e sul set beh logicamente c'era ansia è la mia prima regia è un mio debutto puoi ben immaginare che non è facile soprattutto un'opera prima ma devo dire che grazie all'entusiasmo e all'atto di fiducia e d'amore che ho avuto da parte di tutti i colleghi e anche di tutto il reparto il cast tecnico spero di essere riuscito a portare a casa questo film nella maniera più degna possibile insomma tra l'altro sette euro per farti innamorare oltre a serena rossi a massimile giliano gallo e a te ovviamente a un altro grande protagonista secondo noi che è napoli meravigliosa girata benissimo sei d'accordo assolutamente napoli è una è la protagonista del film ho sempre immaginato da quando avevo scritto il romanzo già sette ore per farti innamorare a napoli e io ho sempre pensato che napoli è una città piena di potenziale e cinematograficamente sorprendente e meravigliosa già quando avevo pensato a song napoli poi diretto e sceneggiato dai dai manetti brossi insomma avevo immaginato un altro tipo di napoli napoli la vediamo anche in gomorra di cui io sono fan però raramente vediamo napoli poi in un film romantico secondo me napoli ha lo stesso potenziale di new york come gli americani sono bravi ad ambientare che ne sono il bronx i loro gangster movie polizieschi e poi a manattan le commedie romantiche così napoli secondo me alla stessa alla stessa forza e quindi spero di averla ripresa bene come io la conosco e quindi non è una napoli che che siamo abituati non è una napoli che siamo abituati a vedere solitamente al cinema in televisione e spero nemmeno di aver fatto la napoli da cartolina pizza sole mandolino ecco ma una napoli vera